Salute a tutti, oggi siamo con Giacomo che è un operatore della comunità Papa Giovanni XXIII nel progetto CEC, quindi caro Giacomo, voglio partire con questa domanda, essere operatori con persone che hanno fatto tanto del male, come si fa a starci? Ma intanto saluto tutti, come si fa a starci? È un cammino, è un percorso anche di conversione personale, in questo caso dalla mia parte per stare con persone che hanno sofferto tanto, hanno bisogno di una mano, di persone che gli stiano vicine, che gli dino un conforto è un cammino, prima di tutto, personale mio e poi anche perché si riscopre, strada facendo, che le cose che io do poi vengono ricambiate in maniera abbondante, quindi venendo qua io, Giorgio, ricevo anche molto mi rendo conto che do tanto, condividendo con loro, ma ricevo anche tanto C'è un pezzo della parola di Dio che dice con la consolazione con la quale siete stati consolati, consolate e vivere in questa esperienza in qualche modo si entra in contatto con la, userei questa parola con la tribolazione di queste persone, ma anche con la propria e questa parola a me mi ha sempre colpito, cioè la consolazione ecco, come ricevi tu come operatore la consolazione, cioè anche nelle tue fatiche come fai poi a reggere anche, perché comunque molte volte l'operatore è anche quello che riceve non dico insulti, ma in qualche modo la gente viene a sfogarsi di tutti i propri malesseri, di tutti i propri mali ecco come si fa sempre, un po' diciamo ci vomitano addosso le loro eh no, fai da parafugne, come si fa a stare in piedi e poi che cosa restituisci? eh guarda io devo dire anch'io comunque vengo da un passato turbolento quindi a mia volta sono stato aiutato, ho riscoperto Gesù entrando a far parte della comunità Papa Giovanni XXIII e quindi piano piano c'è stata anche dentro di me una voglia, un desiderio di ridare in cambio una mano perché io ho ricevuto tanto e la cosa che mi aiuta molto, mi ha sempre aiutato molto è l'incontro con proprio i donoresteri che mi chiamava gli ultimi i più poveri, i diversamente abili per me quelle persone sono quelle che proprio mi aiutano a stare in piedi beh mi sembra che su questa cosa qui di te possiamo dire qualcosa perché se non sbaglio sei stato in missione in Zambia ma anche in Australia quanti anni hai fatto di missione? sono stato in Zambia in tutto circa otto anni in Australia tre anni e mezzo e in questo momento a casa tua mi sembra che hai abbiamo, anche mia moglie fa parte della comunità Papa Giovanni ci siamo conosciuti in Zambia e abbiamo una famiglia aperta e abbiamo fatto tante accoglienze e tuttora abbiamo adottato una ragazza zambiana che è con noi già da 21 anni ed è diversamente abile con autismo, ritardo mentale e come ti trovi con lei? e lei, io sono innamorato di lei è un angelo per me ed è quella, noi diciamo in casa nostra è quella che ci dà stabilità ed equilibrio cioè ci riporta sempre con i piedi per terra ecco questo quindi è un po' dai la bellezza del nostro stare con i poveri quindi l'esperienza di Giacomo è un'esperienza di condivisione piena perché qui non diciamo otto ore al giorno ma diciamo otto ore qua ma poi a casa sua quindi lui è un operatore ma più che operatore mi faccio dire un padre H24 365 giorni all'anno e questo fa di Giacomo la sua forza e senti la giornata come la passi qua? prova a dire un po' qui nel progetto Cecche di San Facondino che è una collina nel comune di Saludecio come passi la giornata in questo bellissimo ambiente? perché so che ci sono animali c'è l'orto sì 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 ah qui il posto è un paradiso proprio immerso nella natura tra l'altro noi stiamo cercando di portare avanti e di sviluppare un progetto legato alla natura alla nostra madre terra e quindi tutte le cose che facciamo le facciamo nel rispetto della natura nel rispetto dell'ambiente tutto biologico e quindi è proprio un paradiso veramente quindi già venire qua già si sta bene fisicamente e mentalmente poi niente io do una mano alla gestione della casa un po' nel coordinamento insieme agli altri componenti dell'equipe educativa e Giorgio che è responsabile della casa e un po' sotto gli aspetti prima di tutto l'aspetto educativo il percorso dei ragazzi quindi gli incontri, i colloqui anche la parte dell'ufficio le relazioni con i servizi sociali con gli avvocati ci sono tanti aspetti ma soprattutto stare con questi ragazzi che intraprendono questo cammino con noi difatti comunità educante con i carcerati il CEC questo significa stare con loro cioè camminare insieme in più c'è diciamo un valore aggiunto che nelle nostre CEC accogliamo anche persone che hanno dei problemi in particolar modo problemi psichici e questi sono sempre gli angeli e gli special chiamiamo noi Giorgio ci tiene a specificare sono i nostri special e questi sono le persone che ci fanno da termometro sono quelli che ci fanno proprio e sono i veri educatori ma ci sono i momenti che qualche ragazzo ti viene la voglia di dire ma torna a tenere in carcere e non rompere le scatole cioè ci sono questi momenti perché se no ti dipingiamo da santo e non va bene bravo esatto hai ragione perché stavo proprio mi hai letto nel pensiero perché mentre tu stavi parlando pensavo ho detto tante belle cose ma ci sono anche i momenti di fatica è chiaro è normale è normale nella vita di tutti i giorni in queste realtà in queste situazioni con queste persone capita è normale lì è molto importante l'aiuto fra di noi come dicevo prima c'è un'equipe educativa confronto fra di noi e l'aiuto anche di prendere l'aiuto dal Signore con la preghiera e penso anche nel cercare di molto di non voler imporre la propria idea il proprio modo di pensare ma cercare proprio di prima di tutto di costruire una relazione esatto perché secondo me è importante prima di tutto creare la relazione dopo quando hai creato la relazione allora puoi anche fare altro ma prima di tutto una specifica che voglio dare è che di queste case in Italia diciamo altre volte come ben descritto in questo libro che ho scritto proprio per raccontare queste esperienze che sta facendo Giacomo io e tanti altri di queste case ce ne sono dieci e quindi operatori come Giacomo sono circa 13-14 persone che sono proprio della comunità e che vivono queste esperienze quindi noi veniamo anche diciamo così aiutati a vivere in equipe quindi noi ci vediamo una volta al mese e affrontiamo i problemi più spinosi e ci raccontiamo anche qualche gioia ecco e questo incontro? un incontro di coordinamento coordinamento dei CEC delle comunità educanti con i carcerati ed è molto bello specialmente dopo il covid che per forza di cose l'abbiamo dovuto fare online adesso cominciamo di nuovo incontrarci di persona ed è bello proprio incontrare i fratelli incontrare le persone potersi anche abbracciare poter anche mangiare insieme anche momenti belli questo è importante perché vuol dire che il metodo educativo avviene mantenendo un linguaggio comune con delle linee comuni in tutta Italia quindi la casa che abbiamo qui a San Facondino dove oggi è operatore Giacomo però ha le stesse linee di fondo di quelle che troviamo sia a Cuneo o a Termoli o in Toscana o a Forlì e nelle altre parti tutto questo vi raccontiamo per dire che dobbiamo avere speranza come diceva prima Giacomo ho avuto una vita tribolata bene ma le tribolazioni se riusciamo possono diventare non solo la nostra fonte di gioia ma addirittura fonte di gioia per altri e quindi soprattutto a chi oggi è ristretto dico non di sperare forse anche per te c'è un posto e c'è un posto anche dove puoi dare il massimo di te stesso per il bene di tutti allora coraggio e un saluto a tutti ciao